cazzo metti anche facebook cazzo cucinare cucinare cus cus aspetta stai facendo un cus cus allucinante non fate facebook cazzo 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 vittorio 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 è un disastro metti facebook vediamo 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 no no che vola cazzo ci facciamo male no che ci facciamo male mica no cazzo ci succede un casino vittorio ok vittorio aspetta aspetta non lo so vediamo io cazzo ho il computer che è pieno di roba che devo mettere su ti voglio un po' di roba quello è importante ma questo è importante stai attento stai attento stai attento stai attento stai attento stai attento pronto pronto tutto bene che cazzo guarda non cazzo il video vittorio 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 ma questo ci vuole mettere qui meglio no vittorio 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 aiaiai Grazie a tutti.